e buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto oggi di dare una testimonianza e diciamo dire alcune cose per quanto riguarda le esperienze e le prospettive di ASRI per le università. Lo faccio con grande piacere in particolar modo dopo aver ascoltato le voci di Marisa Dallai Emiliani, di Orietta Rossipinelli, di Michela Di Macco. Lo faccio con grande piacere perché mi rendo conto che la mia testimonianza può essere quella di chi, non solo io ma anche molti altri, abbiamo vissuto questa storia dall'altro lato. Cioè dal lato di chi mentre tutto questo si costruiva neanche era arrivato all'università talvolta e poi mentre tutto questo cominciava a prendere una forma, una struttura definita, cioè entrava nell'università, in quel momento alcune persone si stavano laureando e per questo sono entrate diciamo dentro questo grande progetto. Infatti come ha poco fa detto Marisa Dallai Emiliani, ASRI è entrato nell'università nel 1999-2000. Era l'anno in cui io e Chiara Piva ci siamo laureate e questo è stato probabilmente il motivo fondamentale per cui ci siamo trovate a far parte del progetto. Allora cominciava la fase di impostazione diciamo della banca dati, di prototipizzazione di RESI, cioè restauratori italiani, modulo di ASRI e quindi si avviava diciamo lo studio funzionale alla costruzione di quel archivio di consultazione che oggi è stato reingegnerizzato e viene presentato. Allora la sapienza appunto Marisa Dallai Emiliani dava ruogo al primo PRIN, poi diciamo questo stessa indirizzo di studi diciamo diventava forte dell'alleanza tra Marisa Dallai Emiliani e Rotti Arossipinelli e noi che eravamo nei laureati ci siamo ritrovate a lavorare su tutto questo. All'inizio eravamo in pochi ma è stato un lasso di tempo brevissimo perché devo dire che dal punto di vista di chi era dentro da neolaureato ben presto il progetto ASRI e con la sua banca dati RESI è diventato un progetto io direi corale a cui ha partecipato nel giro di pochi anni con grande forza l'università italiana e alla Università Sapienza di Roma si sono uniti ben presto altri 15 Atenei diciamo ne ha citati mi pare alcuni non so se tutti Marisa Dallai Emiliani 15 Atenei si sono uniti nell'arco di 15 anni cioè dal 2000 anno di finanziamento del primo progetto al 2014 che è stato l'anno di conclusione dell'ultimo PRIN finanziato e questi PRIN sono stati sostenuti dall'università italiana attraverso 104 contratti di collaborazione nei 15 anni che contratti di collaborazione che sono stati nella forma lì co 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 borse di studio che andavano da importi minimi di 500 euro fino a 10 mila euro ma devo dirvi che appunto raccontando questa storia dal punto di vista di chi era neolaureato erano all'inizio piccoli borsi di studio per lo più degli importi minori della forbice minima rispetto a questa della parte minima rispetto a questa forbice da 500 a 10 mila euro e però era diciamo un progetto che aveva una fortissima motivazione una motivazione di carattere culturale e metodologico e che ha prodotto nell'arco di 15 anni una quantità cospicua di schede che sono inserite nella banca dati resi 23 mila schede di cui credo che adesso nella sua diciamo riapertura alla consultazione pubblica assai più ampia di quanto non fosse prima saranno circa intorno alle 17 mila perché alcune come forse accennato da un franco prima sono ancora in fase di revisione dunque questo era eravamo molto consapevoli che fosse un progetto di collaborazione tra pubblico e privato e ASRI da subito però dentro l'università ha avuto una serie di significati, di valori di cui chi lavorava a studiare dal punto di vista metodologico e operativo la struttura del progetto era molto consapevole noi andavamo a fare questi corsi presso l'associazione Giovanni Seccosuardo ragionavamo insieme tutti i ricercatori allo stessa fase di percorso di studi ragionavamo insieme su quali fossero i pro e i contro di diverse scelte nella costruzione della banca dati allora solo una frase vorrei dire sul tema proprio della percezione che abbiamo avuto del rapporto tra pubblico e privato dall'interno del progetto un tema su cui sono tornati diverse relazioni fino adesso la sensazione dall'inizio e poi nel corso di questi anni arrivando fino ad oggi è che è della grande importanza del ruolo dell'associazione Seccosuardo in una situazione in cui ci sono numerose realtà di restauratori che non avrebbero un interlocutore immediatamente presente nel proporre di prendere in carico i propri archivi privati e cosa che invece sta facendo l'associazione Giovanni Seccosuardo che già ne conserva presso la propria sete se non sbaglio 25 e quindi diciamo la sensazione che negli anni è andata crescendo è che proprio questo possa essere uno di quei casi in cui si potrebbe applicare quella sinergia virtuosa tra pubblico e privato che era nella mente di chi ha scritto il decreto legislativo 42 del 2004 quello che conosciamo con il nuovo codice dei beni culturali in particolare gli articoli 6, 111 e 112 un'alleanza tra pubblico e privato che adesso è fondamentale per gli archivi privati, dei restauratori privati perché se come diceva poc'anzi la direttrice Alessandra Marino dell'Istituto Centrale del Restauro si è avviato un processo all'interno del PNRR nell'intervento di generativo alla digitalizzazione di costruzione diciamo di una struttura da parte pubblica di contenere i dati, di lavorare sui dati relativi al restauri nel frattempo però diciamo c'è una storia che va avanti una quotidianità corrente che richiede che ci sia qualcuno pronto ad accogliere gli archivi privati ma vorrei ritornare adesso rapidamente al tema delle prospettive e della storia di ASRI dentro l'università e vorrei dire che diciamo appunto numerose persone in Italia hanno vissuto il rapporto con questo progetto prima come chi apprendeva nella costruzione quindi apprendeva nel costruire la banca dati nel studiare l'impostazione metodologica di ASRI e poi è diventato invece docente e quindi si è trovato a formare neolaureati, nuovi ricercatori su come potesse essere come si potesse lavorare all'interno di questo progetto di questo grande progetto e come si potesse imparare a lavorare alla schedatura all'interno del database che voleva dire lavorare sull'analisi della storia conservativa delle opere e devo dire che dal punto di vista diciamo didattico a me sembra che lavorare su RESI abbia comporti tre aspetti essenziali innanzitutto la necessità di acquisire una metodologia di lavoro sulle fonti documentari storiche quindi anche sul lessico storico secondo una metodologia di analisi delle opere stesse nella loro consistenza fisica oltre che nella loro valenza estetica una consistenza fisica a cui non sempre gli studenti e i laureandi di storia dell'arte con cui non sempre hanno una familiarità e terzo punto è proprio di carattere metodologico legato alla ricerca storica dunque questi tre aspetti sono fondamentali nell'esperienza che ho avuto anche dal punto di vista didattico per la formazione di giovani storici dell'arte ma non soltanto loro sono anche fondamentali per la formazione di nuovi restauratori se li guardiamo da un altro punto di vista perché se gli studenti di storia dell'arte accompagnati a lavorare sul progetto ne ricevono una formazione molto importante per quanto riguarda il confronto con l'opera e quindi la necessità di cercare delle verifiche nella lettura dei materiali dell'opera i restauratori, i giovani restauratori la quantità di studenti iscritti alle lauree in restauro che sono state poc'anzi citate hanno un'estrema necessità di maturare una consapevole lettura storico-critica rispetto al restauro del passato e questo aspetto cioè l'acquisizione di una capacità di lettura storico-critica è un aspetto imprescindibile nel restauro anche nella loro quotidiana vita professionale di nuovi interventi sulle opere dunque ci sono due aspetti e due angolazioni anche cui due punti di vista rispetto ai quali ASRI rappresenta e la banca dati resi rappresentano uno strumento di grandissima rilevanza sul piano non solo del studio storico ma anche della prassi del restauro dunque è un aspetto un duplice aspetto sul quale si è soffermato più volte il comitato scientifico e sul quale abbiamo spesso ragionato anche con Maria Beatrice Failla dell'Università di Torino proprio rispetto all'importanza di far maturare una consapevolezza storico-critica sia negli storici dell'arte giovani storici dell'arte che nei giovani restauratori ora è chiarissimo diciamo da tutti gli studi fatti fino ad oggi dall'esperienza di vent'anni è stato sempre più chiaro quello che Orietta Rossipinelli ha dimostrato oggi nel costruire il proprio intervento in tandem diciamo con Giovanna Martellotti e cioè che questa necessità di imparare una lettura materiale dell'opera deve essere realizzata attraverso un confronto con i restauratori con quel loro saper fare tecnico-pratico che è un fondamentale momento di conoscenza ora guardando all'oggi io credo che tutto questo vada considerato tenendo conto del fatto che oggi siamo in una profonda trasformazione nel nostro orizzonte culturale una trasformazione le cui radici sono state illustrate poco fa da Marisela D'Aden Miliani è vero che siamo in un momento e non è possibile mai dimenticarci di trasformazioni e di sconvolgimenti da molti punti di vista ma è anche molto drammatici ma qui io faccio riferimento ad una trasformazione che si esprime nei cambiamenti che avvengono nei percorsi formativi per storici dell'arte e restauratori la discussione che diciamo che il lavoro su ASRI e su RESI solleva ci dimostra che oggi non possiamo dare per scontati non possiamo assolutamente dare per scontati i presupposti fondativi dell'ocultura italiana del restauro e anche per riflettere su questi temi RESI rappresenta uno strumento utile all'interno dell'università ma anche fuori vorrei anche dire fare un'osservazione rispetto all'utilità di ASRI e RESI non soltanto nella fase formativa e di uscita quindi di apprendimento metodologico negli studi dal punto di vista didattico all'interno dell'università ma anche uno strumento imprescindibile quando si è finito quel percorso formativo e quindi si continua a fare ricerca ecco RESI è uno strumento di ricerca fondamentale per chiunque sia interessato alla cultura materiale e quindi voglia sfruttare la possibilità di interrogare la banca dati in molteplici diversi modi alcuni dei quali ci sono stati illustrati stamattina da Paola Manzoni concludo con uno sguardo al futuro uno sguardo al futuro dicendo che RESI ha delle grandi potenzialità che sono non ipotetiche ma concrete nella costruzione di reti di ricerca internazionali sono potenzialità già sondate in passato infatti nel 2004 2005 RESI diciamo ha partecipato e tutti noi abbiamo partecipato ad un progetto finanziato dall'Unione Europea per lo sviluppo della stessa di un'analoga banca dati per i restauratori europei e infatti ASRE si chiamava Archivio Storico Banca Dati dei Restauratori Europei e sono stati uniti in un unico progetto con l'Italia anche la Francia la Germania la Spagna l'Inghilterra l'Ungheria ecco riprendere il discorso anche in questi tempi difficili della creazione di una storia del restauro costruita diciamo assieme ad altri paesi una storia del restauro transnazionale potrebbe avere ancora più importanza oggi perché potrebbe diciamo contribuire a tutelare le identità e allo stesso tempo a costruire dei percorsi di dialogo basati sulle specifiche diversità io vi ringrazio dell'ascolto e ho concluso grazie a tutti grazie a tutti